A tutti da Matteo Lombardi e da Radio Roma Futura.it stiamo trasmettendo le informazioni meteorologiche di Pigneteo, la stazione meteo del municipio Roma 5. Oggi 17 febbraio 2015 la giornata si presenta serena come preannunciato ieri sera e le temperature saranno in rialzo ed oscilleranno tra i 6 e i 19 gradi centigradi. Questo bel tempo ce lo otterremo presumibilmente fino a giovedì di questa settimana. Per gli amanti dell'almanacco ricordo che la giornata più fredda mai registrata il 17 febbraio fu nel 2009 che raggiungemo addirittura i meno 2 gradi, mentre la giornata più calda mai registrata fu nel 2014 in cui raggiungemo i 20 gradi centigradi. L'estensione della luce visibile odierna è di 11 ore e 38 minuti e domani guadagneremo ulteriori 2 minuti e 39 secondi di luce. Anche per oggi è tutto, buona giornata e buon tutto!